Buonasera, benvenute e benvenuti. Allora, da cosa cominciare? Io sono un po' in difficoltà, mi presento, sono una giornalista della stampa, mi chiamo Simonetta Scandivashi, Fabio non ha bisogno di presentazioni, ma sono un po' in difficoltà perché io ho amato questo libro in un modo forse eccessivo e quindi non so prendere distanza, adesso devo essere cattiva o almeno equilibrata. Però con Fabio è bello parlare di tutto e io vorrei partire da una cosa che mi ha raccontato la prima volta che l'ho intervistato diversi anni fa. Parlavamo di scrittori, parlavamo di sboroni in particolare e lui mi aveva detto che sua nonna gli aveva raccomandato di non studiare mai abbastanza perché quando studi troppo diventi un po' stronzo. Scusatemi, siamo in prima serata ma insomma non siamo davanti a delle telecamere, possiamo usare delle parole un po' ose e immediatamente dopo avevamo parlato di come si scrive e lui mi aveva detto una cosa che io ho trovato bellissima e che struttura tutti i libri di Fabio e questo in particolare secondo me, cioè mi aveva detto il mio lavoro, la difficoltà del mio lavoro non sta tanto nel trovare delle storie e poi raccontarle. Fabio è un narratore magnifico, è un grande raccontatore di storie, io lo chiamo Omero, ma la mia difficoltà sta nell'agevolare i lettori, quindi tanto più io lavoro quanto meno devono lavorare i lettori. L'avevo trovata una cosa stupenda. Ora, arriva Oro puro che è un libro sul quale Fabio ha lavorato per 15 anni, me lo stava raccontando poco fa, mentre scriveva anche le altre cose, ed è la storia del mozzo di Cristoforo Colombo, responsabile del, forse uso una parola sbagliata, naufragio della Santa Maria, adesso ti do subito la parola, lo giuro, innanzitutto prendi il microfono così non sembra che tu sia... perché nella notte di Natale del 1492 questa va contro una barriera di corallo, giusto, per colpa di questo mozzo e quindi da lì con i legnetti della nave che va in pezzi si costruisce il primo insediamento senza che nessuno sappia che sono arrivati in America. E questa storia è raccontata nei diari di Colombo, adesso ci racconti perché hai studiato i diari di Cristoforo Colombo, e il mozzo che tu chiami Nuno in tutta questa storia è citato in una riga. Questo Oro puro invece è la storia di Nuno, quindi da una riga, dalla menzione in una riga di un personaggio, di un personaggio Fabio ha costruito una storia che parla di migrazione, parla di inconsapevolezza, parla di scoperta ed è una storia del nostro tempo perché credo racconti perfettamente quanto è difficile capire di essere arrivati nel nuovo, in un nuovo mondo se non si sa cosa tralasciare e cosa abbandonare. Fabio tu non l'hai fatto apposta, ma credo che tu abbia scritto proprio della nostra condizione, nostra in questo momento. Io credo che noi siamo già in un mondo nuovo che facciamo fatica a riconoscere perché continuiamo a leggerlo con vecchi criteri e vecchie strutture. Vai! Ciao, ciao, si sente? Sì, anche in fondo? Sì. Allora buonasera, buonasera a tutti. Io amo questa persona, siamo insagliati, perché se dico donna è brutto, se può più dire. No, 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 con me lo puoi dire, non ti preoccupare. Amo questa donna, siamo insagliati, mi dice cose sempre sui libri miei che mi fanno pensare tanto e grazie di cuore. Tutto è cominciato da questa ossessione. Io ho l'ossessione per il viaggio di Colombo, dopo vedremo come mai il viaggio di Colombo è così incredibile. Il viaggio di Colombo ha una caratteristica. Siccome pensiamo di saperne tutto, non ne sappiamo nulla. Perché quando noi siamo convinti di sapere qualcosa, appena ne sentiamo parlare chiudiamo l'ascolto e diciamo l'associà. E invece di Colombo sappiamo tre cose che ci hanno insegnato le elementari tutte sbagliate. Il viaggio di Colombo è così assurdo e incredibile che le persone che hanno letto questo romanzo mi scrivono e mi dicono, genovesi, io ho letto tutto il romanzo andando furiosamente a controllare su internet perché non potevo credere che fossero successe queste cose. Da un lato mi dispiace perché vuol dire proprio che non ho nessun tipo di credibilità, perché se Google metti per vedere... Dall'altro mi fa piacere perché davvero noi non sappiamo nulla di questo viaggio che è un inno alla meraviglia del caso. Io credo, a me mi fa sempre Colombo, leggendo i diari di Colombo, si dilunga su cose anche non importanti, su personaggi non importanti. Poi di colpo questo avvenimento dell'affondamento della Santa Maria che cambia per sempre la storia del mondo, mezza riga, una riga che dice per colpa di un giovane emozione esperto, a cui è capitato in mano il timone. Io quando ho letto questa cosa ho detto 15 anni fa, Fabio non ti ci fissare, perché io lo so che poi mi ci fisso, allora dico andiamo avanti, leggiamo, c'è pieno di cose in questo diario, non ci pensare, non ti ci fissare. Andiamo avanti e poi dico certo però mezza riga è una cosa del genere, sì nemmeno il nome, però vai avanti dai, poi succede un sacco di cose, incontra... Devo saperne di più e sono partito per Palos e poi sono partito per Madrid e è perso, questo ragazzo non c'è più niente e sì che ci ho messo a punto 15 anni per dargli questo romanzo e su un viaggio, quello di Colombo che è incredibile perché noi tutti dicono Colombo non lo volevano mandare per anni perché gli dicevano no perché la terra è piatta, tu andrai a un certo punto, le navi cadranno perché la terra è come un tavolo e cadi, e lui diceva no, la terra è rotonda, sferica, io torno, arrivo, no, 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 non è assolutamente vero che la terra non fosse piatta, si sapeva già ai tempi degli antichi greci, quelli che non lo mandavano avevano ragione, gli dicevano guarda che quel tratto di mare che vuoi fare è almeno il doppio di quello che pensi te, no è piccolo, è così, è almeno il doppio, non era né quello né il doppio, era più di sei volte, quindi Colombo sarebbe morto di fame, di sete, le tre navi si sarebbero disgregate nell'oceano infinito, però è andato a picchiare sul nuovo continente, così non ricercato e così imprevisto che Colombo ci va e torna in Spagna, ci rivà e torna in Spagna, ci rivà, torna in Spagna, ci rivà, torna in Spagna, poi muore di vecchiaia senza aver mai capito di aver scoperto l'America. La vita, l'America che è forse la scoperta che ha caratterizzato la nostra vita, è accaduta in maniera così casuale, anzi per errore, che chi l'ha scoperta è morto senza essercene reso conto. Se questo non è un inno al vivere senza pianificare, io non capisco, cioè noi continuiamo a vivere come se si fosse dei direttori d'orchestra, vestiti elegantissimi con questa bacchetta in mano e l'orchestra non ci dà retta mai da quando siamo nati e noi continuiamo ora lì, ora lì, ora lì e tutto va a caso e te continui con un buffone a fare così. Noi non siamo dei direttori d'orchestra, noi siamo dei ballerini a una musica che ci manda la vita. Quando la musica è lenta ci abbracciamo e balliamo lento, quando è movimentata così vivi bene. Se vivi da grande organizzatore sei patetico, perché tanto, pensate al ridicolo al teatro, uno che dirige l'orchestra, l'orchestra ognuno va per i fatti suoi, gli strappano il farfallino. Già il fatto che uno c'è il farfallino a me mi... vabbè lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Una volta quando ero piccolo per la comunione la mia mamma mi ha messo un farfallino che era di un mio cugino ricco e mi aveva dato questo farfallino. Io ho sempre questa foto ogni tanto. È il papillon. Il papillon, il papillon, il papillon, che è ancora più umiliante come il nome. Sì. E quella volta mi mise il papillon e c'è una foto di me alla comunione col papillon e ogni volta che mi voglio divertire con la mia mamma è così dispiaciuta l'avermelo fatto indossare che quando ero più grande mi diceva che ne so non ti cimando lì, guarda i corda un po', oddio, 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 si dispiaceva e mi lasciava fare un sacco di cose. E comunque nella vita quello che noi programmiamo, organizziamo è pateticamente un tentativo di riempire il tempo e far finta di avere voce in capitolo ma in realtà è la meraviglia del caso che ci porta le cose. Ti devi buttare, infatti Colombo è partito, se non fosse partito non l'avrebbe scoperta l'America, però una volta che sei lì ti devi affidare. E lui, poi chiudo perché non voglio annoiare, però lui parte convinto di andare in Asia e quando arriva fa tutta una serie di esplorazioni lungo la costa, fra isole e isole, mirabile, cioè è incredibile perché Colombo fa delle scelte di marina incredibili ma le fa perché segue una guida, quella che oggi sarebbe la Lonely Planet, quando uno viaggia prende la Lonely Planet, lui aveva l'unica Lonely Planet riferita all'Asia che esisteva alla sua epoca, che era Il Milione di Marco Polo, Il Milione di Marco Polo, che è l'Asia raccontata da uno che non l'aveva vista, Marco Polo, insomma l'aveva vista un pochino, non scritta da lui, raccontata in galera anni dopo a un altro che si chiamava Rustichello da Pisa, già il Rustichello da Pisa, e che di lavoro scriveva storie inventate per le piazze, per i giullari, immagina la credibilità. Colombo con questa guida sacra va a cercare e Il Milione dice troverete un'isola con uomini con la testa molto grande, troverete un'isola con uomini con due teste, poi un'isola con uomini senza testa. Colombo questo cercava. E cercava le stesse persone che gli citava Marco Polo, solo che Il Milione era di 200 anni prima. E lui continuava a cercare quello e ha fatto tutte scoperte così, ma non solo era una guida di 200 anni prima tutta sbagliata, ma dell'Asia. È come se noi domani il circolo organizzasse una gita in Brasile e noi si parte con una Lonely Planet vecchia del Nepal e si trova tutto grazie a quella guida lì. La scoperta dell'America e le prime esplorazioni avvengono così. Se questo non è un inno a lasciarsi andare alla meraviglia del caso, che cos'è? Lo vedi che aveva ragione tua nonna quando diceva che se studi troppo e vai sui manuali e allora poi un pochettino ti rincretinisci? Meglio, puoi perdere lo sguardo pulito sulle cose. Ora, a proposito di sguardo pulito e incontaminato, io vorrei parlare del titolo, dell'oro puro, perché naturalmente questo è anche un libro, visto la storia che racconta sul colonialismo, come attitudine propriamente umana, diciamo anche occidentale. Questa idea di arrivare in un posto, di incontrare qualcuno o qualcosa e marchiarlo, plasmarlo, anche semplicemente nel toccarlo. Tu questa cosa la racconti molto bene e allora ti chiedo se era questo il punto che volevi raccontare, l'impossibilità della purezza per noi perché non riusciamo a riconoscerla, b nel momento in cui la riconosciamo la vogliamo possedere e quindi la trasformiamo, la antropomorfizziamo, diciamo così. E poi rispetto a quello che dicevamo prima tua nonna, la conoscenza, gli errori, ecco la conoscenza. Che cos'è? È mancanza di controllo, perché tu scrivi di mare da sempre e questo è il tuo libro sul mare per eccellenza, ma il mare è qualcosa che noi non possiamo conoscere e non possiamo prevedere. È così, purtroppo c'è un posto solo, non in due. Vediamo il dramma. Non se ne sono accorti che parliamo di più. Perché mi domando sempre queste dinamiche, uno dice c'è un posto solo, sono in due persone, scatterà una rilissa furiosa. Invece no, c'era, chiaro scusa, in due posti. Ora ti devo ripetere la domanda, immagino. Me la ricordo perfettamente, me la ricordo perfettamente. Il mare è l'esempio proprio dell'incontro. Intanto io consiglierei a tutti nella vita, una volta, per evitare, cioè quando sono in macchina e sento quello di, arriva il verde, pip, dietro un pip, quando sei in fila al supermercato e senti la signora dietro che ti spinge, così, no? Quando sei... Io consiglierei a tutti almeno un mese in mare aperto. Ma non con le costa crociera, queste robe qua, distruttrici dei mari, che te sei come se fossi a Rimini, ma sei su una barca, ma non è quello, non ti insegna nulla. In mare aperto e capisci una cosa semplicissima e bellissima, cioè che il cielo e il mare sono una cosa sola. Almeno per metà della giornata, quando è notte, il cielo e il mare sono indistinguibili. Ma anche quando c'è il sole, se sei in mare aperto, a un certo punto, all'orizzonte, non c'è differenza. Se non ci sono le nuvole, non c'è differenza. Se il mare è un po' mosso e ci sono le nuvole, è identico. E quindi il mare e il cielo sono una cosa sola. E la terra, la maledetta terra nostra, è un'eccezione. La terra ferma, che noi diamo per scontato che è il mondo, e questa è la storia, la cultura, è un'eccezione, è un pezzetto minuscolo. Se attraversi gli oceani non c'è la terra a dare fastidio. E lì perdi anche tutto quel senso del possesso, perché mare e cielo non puoi prendere nulla. È quello che dà fastidio agli uomini. Non puoi prenderli il mare e il cielo. Anche adesso che con tutti i problemi con i migranti ci sono quelli che dicono blocchiamo il mare, facciamo le mura, ma cosa vuoi fare, cretino? Prima vieni, ti devi fare un corso di mare prima di parlare di mare e anche in mare le persone si sono messe sempre e solo quando sono disperate. Il viaggio di Colombo pure nasce dalla disperazione, dalla voglia di cercare cose, dalla voglia di trovare ricchezze, bramosie, ma spesso anche per la disperazione, poi vediamo cosa cercavano, se le persone si mettono in viaggio oggi in mare su delle navi su cui c'è scritto morte, perché è quelle navi dove si vedono i migranti che arrivano, chiunque abbia una minima conoscenza di mare capisce che non ci possono arrivare, e una mamma con un bimbo ci monta sopra, non ti puoi permetterti di nulla. Cioè se lo fa è proprio... Grazie, però... Grazie. È vero, cioè... È comodo, poi arrivano e c'hanno il telefonino. E ti dici, ma davvero è stata detta questa cosa? Eh, c'hanno il telefonino, più bello del mio, e si vede che te ce l'hai brutto. Che problema c'è? Comunque, la terra e il mare sono veramente una cosa sola, e te smetti di desiderare la cosa del desiderio. Io lo confesso, la cosa del possesso che abbiamo noi, lo confesso, io ho un problema grossissimo nella vita con gli altri. Quando le coppie si lasciano, io sono contento. E questo... Ma sempre... Cioè provo un sentimento proprio di felicità per loro, altruismo. Non è che ci guadagno io, che me ne frega a me. E' altruismo, no? E tempo fa... Allora, il mio migliore amico e la mia migliore amica si sono conosciuti, perché l'ho presentato io da ragazzi, e si sono sposati, io sono stato testimone, hanno fatto due figli di cui sono padrino. Quindi, più di così. mi hanno invitato un paio di mesi fa a cena e mi hanno detto, senti Fabio, alla fine non sappiamo come dire, te lo ci separiamo. Perché ridi? Faccio, no, non sto ridendo. No, te stai ridendo. Faccio, sto ridendo forse. Te sei felice? Non sono triste, ecco, diciamo. Ed io sono contento, anche che loro si separino, perché, a parte secondo me, quando due si lasciano, vanno tutti e due a star meglio. Cioè, è una mia convinzione. Certo, magari non subito. Non subito, però, uno dei due lì per lì arranca, però poi dopo si va a star meglio. Ma soprattutto, io ero estasiato dal fatto che loro si fossero lasciati, perché era così significativo. E io gli dicevo, non capivo perché loro non fossero entusiasti come me. E gli dicevo, ma vi ricordate quando vi siete conosciuti, che tutti e due mi chiamavate? Ma, allora le sono piaciuto, le sono piaciuto, a lei cosa piace? Cosa le posso regalare? Lui mi ha chiamato, forse si asce insieme a me. Eravate, ringraziavate il Signore di esservi conosciuti e vi siete rovinati la vita. La vita è bellissima, in quanto è imprevedibile. Cioè, noi non dobbiamo mai avere paura nella vita, perché qualsiasi cosa, noi non sappiamo di cosa dobbiamo avere paura. Quando Colombo nel romanzo, Nuno ha paura, Nuno è ragazzino ha paura, perché sono in mare aperto, gli dice, è certo, non c'è la terra, ci fosse un po' di terra vicina, saresti più tranquillo. Eh sì, bravo, è lì che si muore, perché il mare è aperto, la barca fa così, se invece sei vicino alla terra, ci picchi e vai a fondo. Vedi che non devi avere paura, non perché non ci siamo motivi di pericolo, ma perché noi non sappiamo nemmeno di cosa dobbiamo avere paura. Ringraziamo il Signore per averci fatto conoscere una persona che dopo 15 anni, diciamo, mi ha rovinato la vita, ma l'hai detto quel giorno che l'ho incontrata, no? E invece altre cose che te hai paura che succedano, ti succedono e ti cambiano la vita in bene. E la stessa cosa è, il mare te la insegna il mare. Colombo da ragazzo, per la prima volta, ma è una storia vera, per la prima volta che riesce a usci, andare via da casa sua e arrivare nell'oceano, in realtà era un mercante, giovane mercante, lo attaccano i pirati, i pirati legano le barche fra loro con le catene, e così parte una specie di immenso campo di battaglia galleggiante, prendo fuoco tutto, i più ricchi che hanno le armature, che si sono messi in armature, si buttano in acqua, belli sicuri con le armature, vanno a fondo come sassi, lui che è nudo si salva, e però cerca di andare verso la terra, ma la corrente lo spinge dall'altra parte, lui va ad andare verso la terra, la corrente lo spinge dall'altra parte, a certo punto è distrutto, si attacca a un remo e dice, portami a morire, e il mare lo porta dall'altra parte, però come al solito Colombo si sbagliava, la terra era dall'altra parte, e si è salvato, e non solo l'ha fatto arrivare a Sagres, dove c'era la base portoghese, che è come Cape Canaveral oggi, da dove partivano tutti i viaggi di esplorazione navale, e lì lui trova la moglie, cioè si sposa, trova delle persone che lo accolgono, e diventa un marinaio esploratore, la vita è quella cosa lì, posso dire una cosa, questa è incredibile, Guglielmo Marconi, l'uomo più, era il Bill Gates della sua epoca, l'inventore della radio, famosissimo, ricercatissimo, ricchissimo, lo invitano al varo di una nave, primo viaggio inaugural, la moglie gli dice, Guglielmo non mi porti mai da nessuna parte, andiamo, sì sì ci andiamo, vanno, arrivano in ritardo, hanno dei problemi di viaggio, perdono il viaggio, e la moglie è arrabbiatissima, ah sei il solito inaffidabile, lui dice ma non è colpa mia, anch'io ci volevo andare, c'erano tante persone che volevo conoscere, una cosa, poi c'era tutta la stampa, il bel mondo, era il Titanic, è complicato, parlare di Titanic, il Titanic continua ancora, sì a ammietere, era il Titanic, è affondato, lo sappiamo, non sono morti tutti, sono morti molti, ma molti si sono salvati, se il Titanic fosse affondato pochi anni prima, sarebbero morti tutti, perché tu affondi in mezzo al mare, è vero che ci metti tanto, il Titanic ci ha messo tanto, ma se nessuno sa che affondi, ci puoi mettere anche un mese, muori, come mai in metà, molti si sono salvati, i più ricchi, perché hanno mandato, un SOS, usando la radio, grazie a quegli, all'Uomo Arconi, quando sono arrivati a New York, i ricchi salvi, hanno detto, all'uomo che ci ha salvato la vita, dobbiamo regalare una cosa, un trofeo di 5 kg d'oro, secchino, la vita è questa cosa qua, ti incazzi, perché non prendi una nave, che volevi, la nave era il Titanic, non la prendi, la perdi, invece che morire, ti arrivano 5 kg d'oro, Fabio, io vorrei che parlassimo, dell'esperienza, perché, io credo che, tu abbia ragionato molto, intorno all'esperienza, perché, non si capisce mai, se è un limite, se è il bagaglio giusto, noi viviamo in un paese, dove, per far lavorare, i giovani, chiediamo sempre, che abbiano 10 anni, di esperienza, perché, è un paradosso, abbastanza auto-evidente, no? E, Nuno, è un ragazzino, di 16 anni e mezzo, che arriva, dal niente, che si trova, all'interno di una cosa, più grande di lui, ed è l'unico, che capisce, quello che sta succedendo, proprio, perché ha, poca esperienza, però, è molto scivoloso, dire, no? Che, alla mancanza di esperienza, corrisponde, la capacità, di, come dire, intercettare, quello che sta succedendo, capirlo, allora, ci racconti di questo, soprattutto, perché, tra l'altro, tu hai scritto, per 15 anni, questo libro, hai scritto, un libro sul mare, e lo hai scritto, però, quando tu dici, mare e cielo, sono la stessa cosa, l'hai scritto, perché tu ci sei stato, un mese in mare, su un mercantile, adesso vorrei anche, che ce lo raccontassi, raccontassi, quindi, di fatto, questo è un libro, che nasce da un'esperienza. Anch'io sono convinto, che l'esperienza, a volte, possa essere dannosa, cioè, ci sono cose, che se fai troppe volte, non le capisci più, no? quando cambiano, e l'esempio è, il momento in cui, che forse è il capitolo, che ci ho messo di più a scrivere, penso un anno, cioè, per un anno, ogni tanto lo riprendevo in mano, e poi, ma non va bene, cioè, averci messo così tanto, non va bene, comunque, il capitolo in cui, davvero, arrivano a terra, scoprono l'America, e scendono, quello è, veramente, ci fa capire, come siamo noi, e come mai siamo qua oggi, messi, così, cioè, non così, voi siete messi benissimo, di quel mondo, con tutto rispetto, allora, l'uomo del 1492, europeo, era il suo peggio, inquisizione, peste, guerre millenarie, orribili, la vita media, era bassissima, i bambini, che superavano l'ottavo anno di età, erano a meno della metà, partiamo per trovare l'Asia, e troviamo, un posto dove, gli uomini sono nudi, ma non perché sono primitivi, perché la temperatura media, è 25 gradi di tutto l'anno, dove non hanno i soldi, non perché non sono primitivi, ma perché, non hanno l'idea della fame, ci sono frutta tropicale, verdura, della quale sono maestri, nella coltivazione, pesci, non c'è fame, e quindi non ci sono guerre, non conoscono le armi, non hanno i metalli, quando c'è una disputa, fra villaggi, la risolvono così, prendono la gomma, il caucciù, che noi non avevamo, lo porta Colombo da questi viaggi, e fanno una palla di gomma, e si sono inventati uno sport, un gioco, a due, dove possono prendere la palla solo quei piedi, e chi vince ha ragione, noi arrivati lì, avremmo dovuto dire, che culo, cioè, siamo arrivati in paradiso, abbracciamoli, e chiediamogli di rimanere qua, è stata l'unica volta, in cui l'uomo occidentale, ha avuto la possibilità, di scegliere, e di scegliere radicalmente, e invece abbiamo scelto, di andare a dritti, per la nostra strada, no, noi vogliamo l'oro, vogliamo le spezie, non ci sono, schiavizziamoli, perché ce li trovino, distruggiamo tutto, spaziamo via tutti quanti, torniamocene a casa, con tutto quello che abbiamo preso, e poi qua ci facciamo, il nostro spazio, e costruiamo un'altra Europa qua, quello ha fatto arrivare a oggi, quel capitolo in cui scendono, per l'esperienza, è incredibile, perché, a noi ci raccontano, che quando Colombo è arrivato là, la prima cosa che ha fatto, è stata inginocchiarsi, per terra, avete presente tutti i film, anche con Gerard Depardieu, quello famoso, a parte quel film lì, è stupendo, ritorna in Europa, per annunciare che hanno trovato, arrivano questi paesani, entrano in un'aia, e fanno, hanno scoperto l'America, fra l'altro, non si sapeva, hanno scoperto l'America, e in un'aia piena di tacchini, e dice, ma se c'è un uccello, che è proprio tipico, americano, è il tacchino, mettici due alline, no, vabbè, comunque, Gerard è il 4 luglio, col tacchino, immagino, loro, Colombo, si inginocchia, effettivamente, e prega, perché era molto religioso, quando arrivano là, per un attimo, poi si alza, voi immaginatevi questa cosa, chiudete un attimo gli occhi, e pensate a cosa possono aver visto, non che non l'avevano mai visto, perché noi, molti di voi, non avranno mai visto, la barriera corallina dal vero, però l'avete vista, nei documentari, o perlomeno sapete che esiste, voi pensate a persone che, non solo vedono per la prima volta, ma non hanno la minima idea che esistano, la barriera corallina, tutte le posidoni e le cose che ci sono dentro, i pesci tropicali colorantissimi dentro, tutte queste piante incredibili, questi uomini di un colore diverso, anche dagli africani, con queste piume che escono nudi, e gli uccelli che riempiono l'aria, sono pappagalli, e pensate alla visione, qual è la reazione degli uomini di Colombo, e quindi nostra, degli uomini esperti, l'unico e nuno che rimane incredulo davanti a questa cosa, la reazione vera, si mettono lì, si siedono, ignorando tutte queste persone che arrivano, si mettono seduti, aprono la pergamena, in nome della regina e del re di Spagna, di Cristo nostro Signore, noi prendiamo possesso di questa terra, Oggi di Ammiraglio Colombo, con timbro sicilio, compilano un atto notarile, e ci stanno tutto il tempo che serve, finché non è finito con il registro, alla luce dei testimoni che firmano, è come se ora arrivassero gli alieni, su Torino, è una vita che prego che arrivino gli alieni, ma non, il sogno che arrivino, magari è la fine, no però voglio sapere perché, c'è un motivo, c'è un motivo, ma io sogno che arrivino, amici, magari ci sono, e noi non sappiamo riconoscerli, un po' come Nuno e Colombo, hai ragione, hai ragione, e comunque, loro compilano questo atto notarile, ed è come se noi oggi arrivassero gli alieni su Torino, sul circolo dei lettori, astronavi, raggi laser, esseri incredibili, e noi si compila il 730, questo è lo scarico, questo è lo defalco, questo è nero, cioè, è uguale, ed è la nostra reazione, secondo me, ogni giorno, a tutto quello che succede, ormai siamo diventati tutti così, ogni giorno, se noi camminiamo per la strada, ci sono cose incredibili da vedere tutto il tempo, ma noi siamo sempre, una volta si teneva gli occhi bassi al nulla, ora il telefono, ma è la stessa identica cosa, uno dice, passiamo sempre i telefonini, ma non cambia, anche prima che non c'erano i telefonini, stavi così, guardavi davanti, è esperto, quindi, Nuno che non è esperto, non capisce cosa stanno facendo, e secondo me l'intelligenza in certi momenti non è capire, è unice intelligere, capire, no, più sei intelligente più capisci, secondo me spesso nella vita più sei intelligente e meno capisci come mai succedono certe cose, credo. Allora capire cos'è? Cogliere? Cioè, il problema del capire, dove sta nel fatto che poi quando capiamo dobbiamo per forza definire le cose, lui non definisce niente, quindi si fa attraversare, qual è il punto? E' effettivamente capire e capere, E' comprendere, c'è proprio questa cosa del prendere, è sempre il discorso, sono contento quando le persone si lasciano, e sono contento quando le persone dicono non lo capisco e non lo voglio capire, no? Cioè, io per esempio non ho mai capito, non dico di essere terrapiattista, però, mi stanno simpatici i terrapiattisti, cioè, le persone si permettono di ridere dei terrapiattisti così, ah ah ah, terrapiattisti, io ci sono andato a un paio di convention di terrapiattisti, Dove? Dove? In Sicilia, molte ne fanno in Sicilia. Sei andato apposta? Apposta. Cioè sei andato? Apposta, tre giorni da simpatizzante, perché tu ci puoi andare da terrapiattista o da simpatizzante? Certo. Da simpatizzante che si vuole informare. E devo dire una cosa, noi ridiamo dei terrapiattisti, giusto? Scusa. No, ma è giusto, è giusto, però noi cosa proponiamo, in cosa crediamo noi? Mi sto, sto infilando in un gene praio, qui non vero fuori, lo so. Senti il silenzio assoluto. Il silenzio imbarazzato. Povero Genove. Mi sono infilato, parlavamo di libri, andavamo. No, ma noi crediamo, e ci credo anch'io con voi, cioè non è che dico no, che la Terra sia sferica, e che si regga sul nulla, e giri vorticosamente su se stessa, e giri vorticosamente intorno al Sole. Giusto? Ma noi non è che lo sappiamo, noi ci crediamo perché ce l'hanno detto fin da piccoli, ce lo dice la scienza, e ce lo dimostra con i metodi scientifici. Ma al lato pratico nostro, io dico, ci credo, perché me lo dice la scienza, però, è piatta, siamo fermi, e il Sole si muove, e la mia mamma mi fa sempre, ma infatti, la mia mamma ci crede. Vi dico solo, sulla mia mamma, la mia mamma è qualcosa di incredibile. Stiamo, è vero, no, mi chiedo scusa, però, poi devo spezzare una lancia per i terapiatisti, perché comunque anche noi crediamo senza capire, è una cosa che ho rinunciato a capire, i miei scienziati mi hanno spiegato come mai siamo fermi, ma non dico, non ho capito, e non voglio capire, ci credo, è una fede per me, però ci credo. La mia mamma, scusa, la mia mamma è un riferimento filosofico, in confronto al Dalai Lama è nulla, e l'altro giorno è stato stupendo, ero a Milano, e lei mi fa sempre, ma sei in Puglia, vero? Faccio sì, sono a Milano, perfetto. Ha ragione comunque, la maggior parte dei Milani, esatto. Ma lei era proprio, e mi fa, oppure dovunque sono mi dice copriti, per lei Forte dei Marmi, e il resto del mondo è un posto freddo dove non si mangia, quindi mangia e copriti, e mi fa a Milano, e come mai, dico, e ciò, levo l'incontro stasera, a che ora faccio? A nessun'ora, perché non si fa l'incontro, come mai è morto Berlusconi? E lei, ma perché veniva? però ha ragione, scusa. Ti fa capire, te ci pensi, lì per lì, dici, però ha ragione, perché veniva, cioè, con tutto il rispetto, no? però, ha ragione, no? E, grazie. la mia mamma si arrabbia sempre, perché quando parte un applauso, oppure per lei, io faccio sempre così, e lei fa, ma io sono viva, non mi indicare il cielo, vabbè, e mi viene così. un'altra cosa sua, è stata stupenda, perché mi fa, ma questa omofobia, di cui parlano tanto in televisione, ma che è, alla fine? Faccio mamma, l'omofobia è quando, due persone, dello stesso sesso, vanno insieme, lei, molto, ha fatto la prima elementare, ma è una donna rivoluzionale, di chiesa, ma che le va bene tutto. Faccio mamma, due persone, dello stesso sesso, ecco, e qualcuno ha dei problemi, dei problemi di cosa? Che non è d'accordo, che due dello stesso sesso, uno vada con quell'altro, e lei ci pensa e fa, ma quello che non è d'accordo, è uno dei due, faccio no, è uno che non c'entra nulla, e lei mi guarda e fa, ma allora che gliene frega? Cioè, non capire a volte, è l'intelligenza, e quella è l'intelligenza. E allora? Allora ho una domanda, ci racconti per favore, questo viaggio di un mese, sul cargo, perché la prima domanda, che voglio farti è, qual è la prima cosa che il viaggio in mare ha smentito, visto che parliamo di questo, in mare non valgono tutte le cose che noi sappiamo, ci si sciolgono davanti agli nostri occhi, c'era un ricordo della prima cosa che tu eri certo che sarebbe successa e invece non è successa, e hai capito allora che in mare non valeva niente di quello che sapevi? Sì, assolutamente, innanzitutto, per prima cosa, grazie, no, grazie a Dio, perché poi per un attimo c'è veramente una specie di astinenza, però, non c'è più campo del telefono, che è incredibile, rivoluzione, oggi, se non c'è campo del telefono per un minuto, svieni, molto dopo però, non so se hai notato, molto, molto in là, sì, sì, spaventoso quanto, quanto ancora, però quando ti allontani proprio a un certo punto non c'è campo e non ci sarà per giorni e giorni e giorni, e la cosa incredibile è anche quanto puoi non spostarti nella vita, a me piace da morire, la mia nonna è andata per la prima volta a Pietrasanta, in bicicletta, la mia nonna vive a otto minuti in bicicletta da Pietrasanta, è andata a Pietrasanta la prima volta a 26 anni in bicicletta per andare dal dottore, e prima non era mai andata così lontano, quando si è sposata la sorella e mia nonna col marito sono andati in vacanza in luna di miele a Pisa e sono ritornati, sono andati la mattina alle nove e a luna erano già a casa a lavorare nel campo, questa era la luna di miele. Questa è la storia dell'Italia. È la storia del mondo, il mondo è sempre stato, adesso siamo tutti mi faccio il weekend a Barcellona, a me la frase, la parola mi faccio il weekend a Barcellona va bene, lo capisco, però mi sembra, noi diamo più scontato, cose che sono anche incredibili, a me l'idea, io non volo da alcuni anni, ho smesso di volare, ma non per una scelta mia, ho paura, perché mi è successa una cosa terribile in aereo e quando ti dicono guarda le hostess per tranquillizzarti, quando vedi le hostess che piangono e si abbracciano dici, quando vedi le mascherine che cadono fai, quando la luce comincia a travallare quella è l'inferno e quando il vicino tuo di posto marocchino mi guarda e mi fa goodbye my friend e dico goodbye siamo rimasti in contatto ogni tanto ci mandiamo una mail e lui da nulla mi scrive goodbye my friend e io dico goodbye to you ma insomma rimaniamo per adesso e da lì non sono più riuscito a volare però va in India in nave deve avere tanto tempo però ci vai uno dei miei racconti preferiti di fantasmi si chiama Thunley Abbey scritto a inizio novecento è la storia di un inglese che va in India e è ambientato a Brindisi perché tutti per andare in India dall'Inghilterra scendevano in treno fino a Brindisi e poi si imbarcavano era normale oggi se lo fa uno ci fa un blog e fai io ce l'ho fatta mille foto all'epoca erano una signora di 80 anni che andava in India e ci andava così noi la tecnologia ci ha arricchito e indebolito siamo debolissimi ormai le imprese che facevano i nostri nonni ci sembrano impossibili non li ascoltiamo nemmeno i nipoti non ascoltano i nonni perché non è il loro mondo è un mondo così lontano a noi non ci facevano usare la calcolatrice perché dopo non sai fare i conti ormai adesso è tutto così non sappiamo io l'altro giorno ho chiesto un'indicazione perché non mi funzionava il telefono la gente quando chiede un'indicazione oggi ti guarda guarda va te la comprare da un'altra parte l'eroina basta tra l'altro sono arrivato oggi alla stazione a Torino è stato stupendo perché c'era una signora lì con i suoi bagagli e così e siccome aspettavo una signora che mi veniva a prendere pensavo fosse lei mi sono avvicinato ho detto scusi lei no per favore basta via 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 come capito basta di venire a chiedere dei soldi quindi vabbè comunque noi siamo veramente debolissimi e in mare scopri questa cosa che io godo la vita lo so che dovrebbe essere avere sempre di più e imparare sempre di più e per me la vita è riuscire avere sempre di meno cioè riuscire a capire con quanto meno puoi stare e e con quanto poco puoi vivere ma non di soldi che dopo diventa una moda io mangio quello di riciclatolo così ma è proprio quanto meno puoi vivere quei sensi una persona che perde una gamba e riesce ad andare avanti lo stesso il mio pop che non si alza più è sempre stato un uomo attivissimo e si è inventato un modo per muoversi lo stesso va nell'orto strisciando è una cosa bellissima io non ho mai visto un uomo strisciare con tanta fierezza e quello è un uomo non quello che conquista il K2 con gli sponsor e ritorna Big Man Iron Man capirai che ci vuole è quello l'uomo e un amico il signor Rinaldo il fratello un amico del mio nonno che era cieco ma anche maniaco sessuale anziano e lo portavo in giro con la carrozzina cieco e scusate la volgarità ogni tà a forte le marmi d'estate lo portavo a giro e lui faceva è morto ciechissimo che fica faccio chi quella lì e lontano magari non lì ma là c'era una bella e faccio ma come Rinaldo ma come le vie ma il modo di muoverci lo senti come cammina cioè si può nella vita si può fare a meno di tante cose e a me mi piace da morire questo libro negli ultimi due tre anni mi sono fatto prendere la mano ho smesso di frequentare chiunque le persone non andavo a cento tra nel giro d'Italia che è una parentesi di tre settimane folle che faccio e mi piace ma non vedere nessuno non andare in nessun locale non parlare con nessuno non avere amici astinenza di tutti i tipi proprio e scopri che non ti serve nulla ma non ti serve veramente nulla ma è proprio vero cioè anche quella cosa scusate sarò impopolare ma quella cosa del sesso no? quella lì quella lì se ti smetti per qualche mese arrivi a dire ma che che sarà mai? no? io sono d'accordissimo su questo tema stiamo scrivendo in tutte le maniere che bisogna smetterla perché no però poi ci sono i sociologi che ti dicono che è vero adesso è vero tra l'altro che gli adolescenti fanno poco sesso ma ti dicono che è perché detestano l'altro hanno paura dell'altro invece poi parli con questi ragazzi e semplicemente dicono abbiamo scoperto certo che non succede niente se si aspetta no? tutta questa smania però tu che sei uno scrittore uno scrittore che appunto lavora per facilitare i lettori ma non ti manca mai il contatto con gli altri cioè questo privarti della vita la chiamo mondana ma chiamiamola vita e vivere segregato pensando solo alla tua storia a un certo punto non non ti allontana troppo non ti fa temere che sei che stai creando qualcosa che non esiste vuoi creare qualcosa che non esiste a che cosa servono le storie che non esistono tu hai letto un diario di una cosa che è successa però no no è vero infatti non si può star da soli davvero però secondo me si deve se vuoi fare certe cose per dei periodi per esempio ora tutte le sere grazie a Dio sono insieme un sacco di persone si parla e io più che altro mi piace ascoltare ma però ci sono dei periodi in cui quando scrivi secondo me devi star solo solissimo perché tutto quello che hai ascoltato ti serve il grande silenzio per prenderlo e metterlo senza distrazioni se no ci sono persone che scrivono pensando ai premi pensando ai colleghi pensando ai giornalisti pensando all'editore pensando ai lettori e invece devi pensare solo io scrivo solo pensando a mio figlio che non ho e non avrò mai e io penso a mio figlio me lo immagino un bambino vecchio di tutte le età così l'unica cosa che a me mi manca di non avere figli è non potergli raccontare delle storie e allora mi metto lì e gli racconto e scrivo queste storie per lui o lei mi piacerebbe fosse una lei e però lì ho bisogno di solitudine totale totalissima e e ma perché è una specie di e dopo il brutto è che mi sono reso conto però che ogni volta che poi ritorni nella vita normale è sempre più complicato perché una volta che scopri che cioè prendi delle manie e lo vedo ora con gli alberghi che ti guardano come un matto a colazione tipo io ora ho la mania che a colazione mangio due limoni tutti i giorni limoni interi due limoni interi li sbuccio e li mangio ah li mangi così però a casa li sbuccio due limoni e fai quando vai in un albergo dici mi dai due limoni ma due fettine due limoni no e già il cameriere te le porta così quelli di tavolino accanto guarda e fanno e te ti sbucci e dici qualcosa non va perché tutti gli alberghi la gente mi guarda strano non va cioè secondo me finirà che non si riesce più a fare il doppio passo cioè con gli altri senza gli altri però ecco io credo che sia bello capire che si può fare almeno quando c'era il covid c'è stato quel lockdown totale io lo stavo scrivendo stavo chiusando un libro quindi non ho sentito il lockdown e tutti scrivevano ma basta meglio la morte questa non è vita e dicevo state parlando è la mia vita un po' di rispetto e però secondo me ecco devi vivere insieme agli altri anche perché è bello vivere insieme agli altri però c'è un momento in cui quando devi fare qualcosa ti devi ritirare in te stesso proprio per sentire tutto quello che gli altri ti hanno detto se non sei sempre distratto da oggi dai notizi dai notizi dai fatti dalle cose che devi fare oppure è una scusa mia per star solo penso prima hai detto che ti manca un figlio del non avere un figlio ti manca il non raccontargli delle storie e io mi ricordo che un'altra volta tu avevi detto che capisci che ami qualcuno dal desiderio che hai di raccontargli delle storie ora qui c'è anche in questo libro c'è una storia d'amore tra Nuno e quella che tu chiami per tutto il tempo lei che è un indigena e loro non parlano mai allora ti chiedo che ruolo ha il linguaggio nell'amore nelle storie d'amore la possibilità di parlarsi perché loro si dicono tantissimo si conoscono tantissimo guardandosi peraltro con il mare in mezzo a un certo punto perché vengono separati grazie che mi lo chiedi perché è una mia fissazione secondo me l'amore l'amore vero non non ha parole nel senso che contrariamente al fatto che noi si vive di parole no? chi fa il nostro lavoro vive di parole però l'amore vero è silenzio infatti lo vedi quando conosci una persona con cui ti sembra che possa partire qualcosa vi vedete e vi bombardate di parole perché nel tentativo di trovare degli argomenti comuni o di fare colpo di una cosa interessante si passa agli argomenti ecco ma davvero anche te è così primo appuntamento è una mitraglia di parole il secondo appuntamento pure poi quando davvero si arriva all'amore cioè una volta su mille davvero le persone si innamorano davvero il momento dell'amore che forse purtroppo è come quando un insetto nasce dal fiume poi vola 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 e poi dopo dura pochissimo e poi ricasca nel fiume viene mangiato dalle trote e così l'amore quando arriva al vero suo massimo è silenzio e quando siete insieme a letto appena sveglio la notte tardi e non non vi dite nullissima perché non c'è nulla da dire perché non c'è niente che serve dire no? è una comprensione di pelle di respiro e allora basta che ne so c'è una mano sul corpo basta una mano su un fiacco fare così con un dito e dici c'ha centomila cose invece che bombardare di parole e quello è il linguaggio dell'amore è un linguaggio muto e infatti è il più bel silenzio che ci possa essere e subito dopo c'è il silenzio più brutto che è quando una coppia è finita e non si sa più che dirsi cioè è incredibile perché da fuori è silenzio uguale però uno è il silenzio di chi non ha bisogno di dirsi nulla e l'altro è il silenzio di chi non ha più niente da dirsi e vengono uno dietro all'altro io dico io credo che esista Dio perché è un drammaturgo perfetto che ha creato queste cose con dei tempi sublimi e anche sadico e e tu prima stavi zitto perché c'era così tanto che vi dicevate solo sfiorandovi le dita solo guardandovi al tavolo solo e dopo è il silenzio del nulla e dell'incomprensione e lì appena arriva quello lì lo dico ma nessuno riesce a farlo nessuno di noi lì dovresti subito scappare velocemente buttarti da una finestra morire al limite ma non rimanere perché fai del male a tutti tu nel libro scrivi Dio e silenzio e e il silenzio accompagna molti momenti importanti di questo libro vorrei che ci raccontassi anche questo viene dalla tua solitudine viene dall'isolamento sai io vivo a Forte dei Marmi d'inverno quindi il silenzio rumore del mare che è un rumore che copre tutto infatti è stupendo ed è mi capita ogni tanto qualcuno che mi viene a trovare e mi dice non si vede il mare da casa mia a Forte dei Marmi è piatta quindi non è che non è in Liguria che vedi il mare anche se siamo a tre minuti non lo vedi e qualcuno ti viene a trovare e dopo un po' ti fa ma dov'è l'autostrada che sento un rumore dell'autostrada guarda che è il mare ah che bello un attimo prima pensai fosse l'autostrada tanto bello e c'è secondo me il silenzio è bellissimo perché ti ascolti ora ci stiamo anche in silenzio tanto ma non è mai un ascoltare non ascoltiamo mai né noi né gli altri e infatti siamo tutti alla ricerca ma tutti noi mi ci metto dentro siamo tutti a non ci stupiamo più vogliamo solo stupire gli altri quindi anche quei quattro dementi giovani che hanno fatto la sfida delle 50 ore che guidavano e poi hanno ammazzato quel bambino volevano stupire no e tutti sono dietro a farsi dei video per stupire io ti devo stupire di più di te siamo tutti sul palco e non c'è nessuno che si gode lo spettacolo perché siamo tutti protagonisti e invece io lo vedo col giro d'italia una volta le persone andavano al giro si stavano ore lungo la strada per vedere passare un secondo un campione e dirgli bravo ora non è più così cioè ci sono i tifosi grazie a dio ancora ma molte persone sono lì per farsi un selfie con lo sfondo nel gruppo quindi nemmeno nemmeno fanno la foto al gruppo ma loro stessi quindi non lo guardano nemmeno e il problema è che ci sono un sacco di incidenti con i corridori perché i corridori devono avere a che fare con persone che non li guardano e sono in mezzo alla strada per farsi la foto e dico non sei tu protagonista sono loro in questo momento per me bisognerebbe insegnare ragazzi a stupirsi e non a stupire non a distinguiti dagli altri sii vincente fatti vedere trova la tua chiave trova te sii unico no stupisciti degli altri tanto le cose belle nella vita si fanno solo perché si guarda qualcun altro e si e si prova a fare qualcosa io questo libro non l'avrei mai scritto se non fosse esistito John Coltrane John Coltrane è musicista incredibile un dio del jazz che a un certo punto dopo essere stato un maestro aver suonato con Miles Davis nel jazz più classico ha preso la sua via è andato verso via Stellarium jazz che nessuno più capiva la gente non andava ai suoi concerti e lui non gliene fregava nulla perché diceva ma io sono in un viaggio non pretendo che di vedere gli stessi posti sono da un'altra parte quel suo ammirare lui ti fa fare cose belle perché ammirando gli altri e la loro grandezza provi a fare qualcosa di meno piccolo te e finché invece proveremo a stupire tutti e senza stupirci è la fine credo l'altro giorno mi hai fatto venire in mente una cosa che ho letto l'altro giorno in un'intervista a Domenico Starnone e lui diceva visto che dobbiamo reinventare il mondo che stiamo in una fase di transizione eccetera forse anche i nostri sentimenti peggiori o almeno le cose che fino a questo momento abbiamo soltanto connotato in maniera profondamente negativa le dovremmo ribaltare e parlava dell'invidia cioè forse l'invidia nella giusta dose dovremmo imparare a riconoscerlo a come un sentimento inevitabile b come un motore di avvicinamento verso l'altro esattamente quello che dicevi tu no riconosco che questa persona ha fatto qualcosa di magnifico e provo a fare qualcosa di magnifico anch'io non necessariamente muovendomi in quel solco allora ti chiedo secondo tu innanzitutto se hai mai avuto una forma di invidia verso un altro grande scrittore e se secondo te è vero che in questo momento di ridefinizione delle cose possiamo senza inventarci altro ma semplicemente cambiando i connotati delle cose così come le abbiamo trattate fino ad adesso effettivamente costruire un mondo nuovo delle relazioni nuove più semplici più felici io lo so che tu tra l'altro sei una persona felice me l'hai sempre detto io sono una persona felice ho avuto la fortuna credo unico fra gli autori italiani della mia generazione avrei avuto un'infanzia felice perché leggendo i romanzi di altri l'hanno avuta in tanti ma nessuno lo dice perché fa un po' caffone essere stati felici sì sì poi vedi spesso ti rispetti vedi che il motivo dell'infelicità è non lo so che il trampolino della piscina non era alto come quello della casa accanto e dici si può vivere lo stesso io ho avuto un'infanzia felicissima e ho avuto una fortuna incredibile perché per uno scrittore per uno che deve raccontare storie è stato perfetto perché è come se mi avessero dato tutto come per un pittore nasci dove ti danno una tavolozza con tutti i colori quindi passavo metà del tempo con miei zii camionisti naviganti marinai dolcissimi ma ruvidi molto ruvidi ma dolci però ruvidi bestemmiatori fumatori gente che è morta presto scapoli e metà della giornata invece la passavo nel negozio di parrucchiere di mia zia che era un negozio i negozi di parrucchiere anni 70 per signore i caschi le permanenti e io a 6-7 anni passavo la giornata lì leggevo grand hotel intimità confessioni era una delle cose più belle i fotoromanzi sono una delle cose più belle del mondo tu vedi legge la prima foto è steve e sindy e steve dice sindy siamo fidanzati da 15 anni finalmente domani ci sposiamo sempre fedeli mai una tentazione tutto eroseo nel nostro futuro foto dopo un aereo di linea scende un pilota superfico che fa un pacco da consegnare una certa sindy fai ai e parte tutta la storia che ti accompagnerai si chiama tipo passione ad alta quota e io leggevo passione ad alta quota e tutte le signore sotto i caschi parlavano dei loro problemi d'amore quindi ah ma sì perché lui non capisco cosa mi vuol dire i problemi d'amore sono sempre i solidi penso dall'epoca della Mesopotamia io sono appassionato di poesia della Mesopotamia e dell'antico Egitto e vi giuro che se voi leggete quelli che mi dicono ma è un amore che sembra moderno se voi leggete le poesie d'amore dell'antico Egitto sono scritte oggi sono scritte oggi quando passi per la strada vestita così e tutti ti guardano io sono geloso perché ti vorrei solo per me perché tuo padre non ti manda invece oggi invece non si immagina che dicessero che ne so vabbè comunque no poi mi perdo queste signore che si lamentavano nel negozio di parrucchiere che dicono ma perché io e poi mi guardavano me che avevo sette anni e mi dicevano perché voi uomini quando avete preso quello che volevate non chiamate più ma io non so nemmeno quel che vogliamo però capivi che c'era un mondo così e in più una delle una signora che lavorava lì dentro era stupenda perché era era un uomo ed era si vestiva da donna ma era proprio un uomo è la persona che mi ha cresciuto praticamente ma era non è come quelli travestiti che non lo diresti era proprio un uomo vestito da donna e io una volta che mi portava a scuola mi ricordo che lo guardai e fece una domanda che mi vergogno ancora oggi ma ero piccolo lui disse ma te ami gli uomini o le donne mi venne da chiedere e lui mi guardò e mi disse lui lei mi guardò e mi disse io amo amare e non me la dimenticherò mai io amo amare e lui lei la mia zia la mia mamma e tutti questi a me mi hanno dato una felicità che ancora oggi c'ho dentro ma non è perché mi è andato tutto bene è andato tutto abbastanza bene come a tutti noi quando arrivano le cose veramente brutte te ne accorgi perché di colpo dici come sono stato stupido a lamentarmi finora di quell'altra roba quando ti arriva una roba che arriva nella vita purtroppo ogni tanto e lì è finita lì si smette di lamentarsi e io lo dico sempre è una felicità fatta così quando la mia mamma ha la cena della parrocchia che arriva una volta ogni sei mesi è il suo evento epocale che aspetta perché si diverte la cena della parrocchia c'era la cena della parrocchia ero a Milano qualche giorno ritorno e vado al negozio alimentare trovo due amiche sue e dico ma insomma sta cena ieri sera com'è andata guarda proprio siamo andati abbiamo sbagliato posto l'impiattamento anonimo l'impiattamento ora siamo menù prevedibile un po' il servizio veramente scadente dico peccato povera mamma mi dispiace vado a casa a trovarla a casa sua faccio mamma so la cena insomma oddio oddio che serata stupenda come sei mangiato bene quanto sei riso come sono stato bene ora dico il ristorante è lo stesso la cena era la stessa chi ha ragione e chi ha torto non mi interessa chi è felice e chi no tanto la vita è quella cosa lì cioè ci capiterà comunque una quantità di cose buone e cattive che più o meno si pareggiano dipende veramente come la prendi quindi è per quello che a me se uno ha un problema io cerco sempre di esserci fino all'ultimo ma non riesco a provare di spiacere per chi si lamenta senza avere problemi perché vuoi essere triste ci sono tre persone che vogliono essere tristi e se tu lo vuoi non sarò certo io che ti imponi di essere felice insomma ecco Colombo che tipo era quanto tempo hai studiato i suoi diari tantissimo allora che tipo era perché qui l'hai abbozzato come l'uomo che aveva sempre torto però in fondo anche un buono non ingenuo non lo so descrivimelo tu e poi l'altra cosa che ti chiedo è se ti sei chiesto qual era il o se nei suoi diari traspari qual era traspare qual era il motore di Colombo voleva fare il bene voleva fare il male perché tu dici una cosa bellissima a un certo punto sul male scrivi che nessuno combatte il male nessuno di noi la verità anche quelli che sembra che combattano il male in realtà stanno semplicemente cercando di non subirlo mi sembra che sia stato il cuore di quello che ha fatto lui sì ebbene Colombo è una persona affascinantissima proprio da raccontare perché non lo puoi definire mai è un ragazzino sognatore col cuore d'oro è un sanguinario assassino è un conquistatore spietato che uccide schiavizza tratta uomini come fossero oggetti e un ragazzo che sogna e crede alle favole è tutto è indefinibile ti sfugge anche delle persone che ti dicono eh ma hai parlato bene di un cioè persone che ti dicono hai parlato bene di un assassino e un altro che ti dice hai parlato male di un eroe decidetevi no è tutte e due è un navigatore ci ha fatto una serie di errori clamorosi però come navigatore è incredibile ha preso dei venti difficilissimi che lo hanno portato perfetti dove in certi posti venti che si ignoravano ha sfruttato cose incredibili molto del viaggio di Colombo ancora oggi suscita ammirazione nei velisti di oggi è però noi la cosa scomoda è che noi buttiamo giù i manifesti di Colombo rinneghiamo il Columbus Day perché è un assassino sono d'accordo da Colombo è partita una cosa atroce così atroce che dopo un po' di tempo quando siccome quando uccidevamo quelli che chiamiamavano indiani pensando che fosse l'India però eravamo gentili prima di impiccarli gli consentivamo di convertirsi e allora questo capo del popolo Tainos gli dicono vuoi convertirti e lui dice che cosa ci guadagno è che vai in paradiso e com'è il paradiso è un posto bellissimo ci siete anche voi certo allora preferisco di no e si fa impiccare senza questa è vera cioè ora Colombo noi vogliamo buttare giù i suoi monumenti perché in effetti andava là e cercava e questo è incredibile cercava l'oro ma la cosa che più cercava e l'oro gli serviva per comprarla anche lui sognava un modo per avere il pepe il pepe per avere il pepe abbiamo ucciso centinaia di migliaia di persone abbiamo cancellato paesi e popoli per il pepe a cosa serve il pepe? a conservare i cibi? no quello è il sale fa bene la salute? fa male è buono? piaceva? no faceva schifo l'hanno dovuto infilare per forza nei ricettari dei nobili perché bisognava usarlo perché bisognava usarlo? perché era costosissimo non ce l'aveva nessuno si vendeva a singoli grani tanto è vero che chi lo raccoglieva il pepe in Asia doveva lavorare con vestiti senza tasche perché se ti mettevi un paio di granelli in tasca avevi risolto la mesata il pepe lo volevano da morire e uccidevano per averlo gli europei perché se ce l'avevi eri ricco se io sono bello dico guardatemi se ballo bene dico ballo se sono ricco come te lo faccio vedere? ti invito ti invito a casa mia e ti dico ma una spolveratina di pepe su quella e ora noi ci pensiamo e diciamo ma davvero sono stati così dementi da fare tutto questo per il pepe sì e noi si fa lo stesso oggi per il Rolex per le macchine per le bottiglie da 50.000 euro una volta sbocciavano le rose ora si sbocciano le bottiglie non lo so io andiamo e sbocciano con il colpo di sciabola no? tra l'altro alcuni con quel colpo lì si recidono magari alcuni ci lasciano anche la buccia ci sono morti di cui mi dispiace di più comunque dico perché una persona nel mondo abbia 50.000 euro da spendere per una bottiglia di vino bisogna che ci siano milioni di persone che muoiono di fame perché nei cantieri di viareggio vicino a casa mia abbiano smesso di produrre le barche normali e facciano solo yacht extra lusso per pochissimi miliardari del mondo che costano milioni e milioni e milioni di euro bisogna che alcune popolazioni siano in ginocchio e muoiano come mosche perché i nostri telefonini funzionino le nostre macchine green per sentirci buoni perché noi non usiamo la benzina ma usiamo le macchine green con batterie così queste batterie funzionino servono dei materiali che si trovano in Africa dentro posti dove ce le vanno a prendere anche i bambini e muoiono come mosche almeno Colombo le cose le sapeva 200 anni dopo noi le sappiamo subito e non ce ne frega nulla andiamo avanti così quindi questo romanzo secondo me serviva anche per parlare all'oggi e dire ridi pure di Colombo oppure condannalo buttalo giù ma sei uguale siamo uguali grazie 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 a tutti